Ben ritrovati su Meteo Giuliacci, come sempre un saluto a Giuseppe De Vittis. Ancora bel tempo, ancora anticiclone che garantisce delle belle giornate e tra l'altro continua ad inviare aria via via sempre più calda. Quindi bel tempo sì, ma con temperature in generale aumento, quindi l'estate si riprenderà una rivincita dopo la rinfrescata che ha coinvolto un po' tutta la penisola italiana. Quindi bel tempo, cielo prevalentemente sereno, qualche nuvolette in più sui rilievi di nord-est tra la mattinata, il pomeriggio e la serata. Sui rilievi di nord-ovest invece verso sera, infatti verso sera si avvicineranno tarda sera un po' di velature. Per il resto nulla da segnalare, quindi temperature in generale rialzo, ancora piuttosto ventilato con venti da nord lungo il versante adriatico e al sud. Che era amici è tutto, buon proseguimento di settimana. Grazie.